Ciao ragazze, sono tornata con un altro video Finalmente dopo 10 giorni di malattia sono di nuovo qui Sto mezza ciaccata e molto raffreddata ma sono pronta per lanciare un nuovo giveaway Vi dico rapidamente le regole ma le troverete nel modo più dettagliato giù nel box informazioni Come prima regola bisogna essere iscritta al mio canale Come seconda regola mettere questo video nei vostri preferiti Terza regola, dovete lasciare un massimo di 5 commenti E dovete essere residenti in Italia Il giveaway avrà la durata di 7 giorni a partire da oggi Sto un po' stralunata da malattia da influenza Avrà una durata di 7 giorni, la vincitrice sarà soltanto una E verrà estratta tramite il sito random.org O randomchooser dipende dai commenti Specifichiamo E niente vi faccio vedere i premi Come prima cosa però vi dico perché vi faccio vedere dei pennellini Che avete visto sul mio profilo facebook Mia Niles C'ho un sacco di ragazze che fanno anche loro video su youtube E stanno tutte alla ricerca dei pennellini dei cinesi Io ve li ho trovati Che cercano i pennellini dei cinesi che si dice che sono buoni ma che costano poco E io ve li ho trovati per voi Vi ho preso questo qui da ombretto che ho pagato 1,50 euro E io ce ne ho 8 o 9 così Sono veramente buoni E vi devo dire la verità Alla prima passata perdono un po' A primo utilizzo perdono un po' dei peli Dopo non li perdono più Mi sono trovata benissimo Infatti Come ho detto Me ne sono comprati quasi 10 Un altro che vi ho preso è il kabuki Io non l'ho provato Però vabbè lo faccio provo a voi Ve lo dico Lo tocco perché tanto dai cinesi non si sa chi avrà toccato Quindi quando arrivo a casa vi conviene lavarlo E' morbidissimo Le sedole sono sintetiche E' marroncino Molto molto carino Molto molto cicciottone Nel senso non è povero di peli E lo ho pagato sui 4 euro Quindi ecco qua che vi ho trovato i pennelletti dei cinesi Che tutte cercano Così li provate e poi mi fate sapere come vi siete trovate Poi vi ho preso uno smaltolaila Questo è il 38 Molto molto bello Che è un rosa Rosa tipo Oddio La telecamera mi sembra più acceso E' molto più fine Più chiaro come colore E' un rosa metallizzato? No Rosa perla ecco Avete visto quando ho comprato il bianco perla Questo è rosa perla Molto molto bello Poi vi ho preso Della stessa linea della Maybelline Della Hydra Extreme La matita Perché qui c'è un mio capello? La matita e il rossetto rosso Vedete abbinato Sono tutte e due rossi Perché stiamo andando incontro al periodo di Natale E tra l'altro fra un mese è Natale Perché oggi è 25 Quindi ho preso Stamati testo rossetto Così è abbinato Ed è tutto calcolato Ah ragazzi spoliciate E come ultimo premio Ho preso per voi Questa palettina Della Be Chic Presa da Sephora Quindi se vi interessa La trovate da Sephora E ce ne stanno In varie In varie nuance Di colori Molto carina Perché Ha una Una matitina nera Un applicatore Con doppio sfumino E quattro colori I colori Sono stati scelti accuratamente Perché a me tutti e quattro Questi colori Mi fanno impazzire Il bianco è molto brillante Questo marrone qua È diventato in generale Uno dei miei ombretti preferiti Proprio il colore Questo qui del marrone E ha un viola chiaro E un viola molto scuro Pieno di brillantini Poi era carina l'idea Perché c'è scritto Vuoi un trucco da giorno naturale Chic? Vuoi un trucco smoky Sofisticato e glam? E qua ci stanno I disegnini E ve dice In pratica Come potete Sfruttare Cioè Come ve dice Come ve cozzia Come ve potete truccare Ecco Ho pensato Che era un pensiero carino Questa è un giveaway Non so se l'ho già detto L'ho fatto Questo mini giveaway Proprio per festeggiare La partnership Che Mi è arrivata Più o meno Un mesetto fa E sono veramente contenta E questo è stato possibile Grazie a voi Mi mando un grosso bacione Niente ragazzi Questi erano i premi Poi Comprato già la bustina Poi una bustina C'è un filo Tutti i campioncini La farò piena Abbatta E sta busta Scoppierà E niente ragazzi Spero che partecipere Tentante Io vi ringrazio Perché mi sono sentata Ben malattia Tra virgolette Da youtube E tutte quante Su facebook Mi avete bombardato Dei messaggi Io che amo Proprio alla follia Ragazzi Perché ormai Sono tutte Una grande famiglia Niente ragazzi Io ancora Per l'ennesima volta Vi ringrazio Ho visto che gli iscritti Piano piano aumentano E sono veramente contenta Vi voglio bene A tutte quante Un grosso bacione E alla prossima Ciao ragazzi